Nuggets benvenuti nell'episodio finale dove concluderemo al 100% Spider-Man 2 Quindi iniziamo subito andando in un posto molto commovente Ed ecco la tomba di zio Ben e zia Mei Siete pronti? E' un dialogo molto importante e questo serve anche per completare al 100% tutto quanto Quindi io direi di curarci Almeno abbiamo il vestito a posto Vai La fortuna dei Parker colpisce ancora Vicini, fai la cosa giusta Zia Mei Ben Zio Ben Farò tutto ciò Che è il mio potere per salvare questa città Detto ciò Andiamo a fare tutte le missioni M M E M F Ovvero la Emily May Foundation E ci vediamo non appena avrò finito tutto L'ultima missione è MS Quindi let's go Eliminiamo le vespe I ratti Che ce ne stanno 10 in totale Quindi molto veloce come sistema Ce ne mancano 4 E stanno tutte qui Ok Il bello è che posso colpire anche a distanza così da risparmiarmi tempo e fatica Ne manca una Che non riesco a beccare Ed eccola qui Ora vado a impollinare Con le bandiere e tutto quanto Le zone dei nidi 5 E ci hanno rapiti Perfetto Cosa è successo? Mi hanno soffiato il drone Esatto Devo provare sulla sua ultima posizione nota Magari scopo Quindi dobbiamo andare lì L'ultima posizione nota è questa Il drone non c'è Ma va Pete? Ma parlavano di un garage Ce ne sono diversi qui nei paraggi Ok Se scopassi quello giusto Potrei riconnettermi al drone dal tetto Perfetto Quindi andiamo Riconnettiamoci Chissà dove sarà questo drone È il posto sbagliato Ok Ok Perfetto quindi Colleghiamoci al segnale video E abbiamo ripreso il controllo Esatto Per il miele Ok Quindi Let's go Vai Iniziamo a fare Un sacco di danno Ok Abbiamo fatto uscire i criminali E adesso Docca a noi Tu Vai Non conosci i mercati di nicchia? Sì ma è la nicchia Della nicchia Esatto In poche parole Una super nicchia E io di nicchia Ne capisco qualcosa Ah Ah Let's go Vai Esatto Secondo te Ai criminali Puoi importare qualcosa Delle atti Spidey Ti reputavo più intelligente Di quanto sei Vabbè Ci abbiamo sempre troppa fiducia Nell'uomo Comunque Ok Quindi abbiamo finito Tutte le missioni E abbiamo sbloccato La modalità Supremo Perché abbiamo Completato Tutti i quartieri E Basta Non ci serve più Fare nient'altro Con le missioni EMF Questa era L'ottava Quindi ce n'è ancora una Da fare Aspettiamo che Ci arrivi una Chiamata Da MJ Volevo solo dirti Che qui a casa È arrivato un pacco Per te Ok L'ho portato in garage Ok Viene da Norman Osborn Eh Oh Interessante Grazie per l'avviso Molto interessante Nuggets Da Norman Osborn Ma siamo seri Quindi Andiamo direttamente Nel Nell'ultima missione Ad Astoria Quindi Nel garage Di casa nostra C'è un pacco Che ce l'ha inviato Norman Osborn Qui c'è L'ultima stazione Della Emily May Foundation Ricordiamo che Pete Ha Escluso La sua vita Per il momento Da essere Spider-Man Per dedicarsi A questa cosa Qui Quindi Let's go Indaga Ok Questa dovrebbe essere La radice Una chiavetta di origine ignota Ma Norman Lo conosco Credo Fai male Pete Fai molto male Dobbiamo andare A quanto pare qua Ok Api Elfie Pete Ho raccolto Ho raccolto queste cose Perché sapevo che Quando saremo usciti Da questo periodo Assurdo Se Ne fossimo usciti Avrei voluto lasciarle E Non ero sicuro Di poterlo fare Di persona Dopo che Dopo che la fondazione Emily May E' stata Distrutta Dai cacciatori di Kraven Ok Ho provato a salvare Il salvabile Prima che sbarrassero tutto Ok Nella scatola Troverai un pezzo Di corteccio Dell'albero Di mia madre Lo sapevo E uno dei fiori Di May Magari Se ne compilassi I geni Potremmo creare Un esemplare Abbastanza forte Da dare sì Wow Bene Ok Ok proviamoci Nuggets Questa ve la faccio Proprio vedere Allora Ci serve Un sole Un'acqua Una pianta E un ossigeno Ehm Fu Proviamo direttamente Con l'ossigeno Qui Poi Acqua Pianca Pianca E così abbiamo uno Sole Acqua E Infine Pianca Dovrebbe andare bene Infatti abbiamo risolto tutto C'era un componente in più Che Poteva distrarci Abbiamo creato La Emily May Sapevo che ce l'avresti fatta Ricordi i droni api recuperati dalle ricerche sul campo Sì Soltando i dati di riposizionamento Possiamo piantare quei simi per la città Oh Sei proprio un genio Harry Osborn Bello Lavorare quelle api Lo so Lo so Ci vorranno anni Prima di vederne i risultati E io e te Non sappiamo dove saremo tra una settimana Figuriamoci tra qualche anno Per questo ho creato questa simulazione Così Emily e May Continueranno a vivere Nella nostra città Oltre che noi Bellissimo Ti voglio bene Vite Sono sempre Harry So che la fondazione Non ha preso la strada che speravo Ma Non avrei voluto nessun altro Al mio fianco Quando riceverai questo messaggio Scommetto che ne avremo già fondata un'altra Da zero Io e te Viva noi Viva noi Viva noi Harry Un'ultima cosa Un nuovo costume Nuggets Un nuovo costume Fondazione sbloccata Guardaroba Eroico Completato E Instancabile Come Per magia Abbiamo Completato Al 100% E platinato Con delle scene Commoventi Questo gioco Noi ci vediamo Nel prossimo Let's play Pronti Let's go